Terzo appuntamento con il ciclo di incontri Diabete Ieri, Oggi, Domani, organizzati dall'Associazione Diabetici Pesaro a Villa Borromeo in Via Vogadro. Dopo gli appuntamenti dedicati alla gestione del diabete 1 nell'adulto e al diabete in pediatria, giovedì 13 ottobre alle 18.30 si parlerà di diabete e patologie tiroidee con Lucia Mingolla, endocrinologa di Fisioradi Medical Center e di terapia del diabete mellito 2 con relatore Alessandro Micillo, diabetologo dell'azienda ospedaliera Marche Nord.